Grazie Presidente. Tagli alla sanità, tagli alla scuola, riduzione delle misure a sostegno della casa e degli affitti, definanziamento delle misure per gli investimenti transizione 4.0. Questa è solo una parte dei tagli a cui abbiamo assistito nell'ultima legge di bilancio e oggi è la volta del super bonus a cui questo Governo sta assestando il colpo finale e mortale. Quindi la visione economica del Governo è molto chiara e si riassume in un numero, in una percentuale, lo 0,6% che è la previsione di crescita di quest'anno. Quindi la domanda che mi sorge spontanea, Presidente, è ma l'obiettivo di questo Governo qual è? Riportarci a una crescita pari a zero oppure ricacciarci addirittura nella recessione? E tutto questo dopo due anni di crescita economica. Abbiamo avuto in due anni il 10,7% in più del PIL. Invece qua è come se questo Governo, appena insediato, avesse avuto fretta di raffreddare subito la crescita economica e a dire la verità ci sta anche riuscendo. I cittadini se ne stanno accorgendo perché stanno vivendo sulla propria pelle quelli che sono gli effetti di queste politiche economiche scellerate. Quindi la domanda è sempre la stessa. Ma per curiosità, voi su cosa eravate pronti? Forse eravate pronti nella scorsa legislatura a fare una certa posizione, anche becera da un certo punto di vista. E purtroppo questo atteggiamento si percepisce ancora adesso negli interventi della Presidente del Consiglio Meloni quando viene a riferire in aula oppure a rispondere a quelle che sono le richieste dei parlamentari. Eravate pronti a fare opposizione ma non avevate e non avete nessuna idea di futuro del Paese e ora che siete al Governo vi vedete costretti ad andare avanti con il pilota automatico assecondando quelle che sono i desiderata di qualche falco dell'austerity dell'Unione Europea oppure di qualche funzionario di qualche Ministero che ha evidentemente in odio i cittadini e la crescita economica e sociale del Paese. Il decreto crediti di cui stiamo discutendo oggi è solo l'ultimo di una serie di atti. Con questo decreto avete fermato il meccanismo dell'accessione dei crediti e dello sconto in fattura che ha determinato il successo del super bonus più della sua percentuale alta, il 110%. Una percentuale che avevamo previsto durante la pandemia quando serviva a evitare forse la più grave crisi economica e ci siamo anche riusciti perché siamo usciti dalla crisi economica con un più 10% in due anni di pil. Allo stesso tempo avevamo previsto una riduzione della percentuale fino al 75% consapevoli che la percentuale così alta poteva essere solo temporanea. Con questo decreto avete portato a termine quello che è il lavoro iniziato dal Presidente del Consiglio, Draghi, un lavoro che consisteva nel generare incertezza nelle regole al fine di inceppare il meccanismo e dissuadere dall'acquisto dei crediti. E lo avete fatto parlando di buco di bilancio, il Ministro dell'Economia ha parlato di bubone. Noi abbiamo chiesto già da un po' di tempo quando ci dirà il Ministro dell'Economia finalmente se c'è questo buco e ci fa vedere questo bubone perché noi nei documenti ufficiali non l'abbiamo visto. Abbiamo visto una crescita delle entrate del 10% e una discesa repentina del rapporto debito-PIL dal 149% al 144% in un anno e dal 155% al 144% in tre anni. Chiediamo da settimane di venire a riferire al Ministro in Parlamento su questo ma il Ministro non si fa vedere. Oggi ci dite che le banche forse inizieranno ad acquistare e quindi perché ora? Perché non prima, visto che nessuna norma che riguarda lo sblocco dei crediti è stata inserita in questa norma. Ho sentito parlare il collega che è intervenuto prima di me di moral suasion ma perché questa moral suasion proprio adesso? Cioè perché non è stata fatta prima del decreto? Forse c'era un interesse a dissuadere quindi a fare una moral suasion al contrario un interesse a dissuadere dall'acquisto dei crediti. In Commissione, il Presidente, è stato accolto qualche emendamento che riapre la possibilità di operare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti per gli ACP anche su questo tra l'altro conservando il paletto del 60% dei lavori effettuati entro giugno quindi solo tra due mesi. C'è stata una riapertura sul terzo settore sisma, barriere architettoniche ed è stata accolta qualche proroga sul termine dei lavori per le case singole e sulla comunicazione dell'accessione dei crediti 2022. Ma nelle intenzioni sbandierate dal Governo questo decreto avrebbe dovuto sbloccare i crediti incagliati e su questo nel decreto ma anche negli emendamenti approvati dal Governo non c'è niente. Tutti i gruppi parlamentari ne abbiamo parlato hanno presentato lo stesso emendamento che consentiva alle banche di smaltire i crediti attraverso gli F24 delle banche. Su questo è stato dato parere contrario all'emendamento sulla base di presunti inspiegati e inspiegabili problemi di cassa che si spiegano soltanto nella volontà sottaciuta da parte del Governo di non sbloccare tutti i crediti. Quindi in qual caso evidentemente c'è una differenza di cassa. Nella scorsa legislatura Presidente, anche durante la campagna elettorale in realtà tanti dei colleghi che sedono adesso in quest'Aula anche di Fratelli d'Italia che erano all'opposizione nella scorsa legislatura hanno fatto la campagna elettorale sul superbonus e hanno fatto la campagna elettorale dicendo che il superbonus era una misura da mandare avanti e che lo strumento dell'accedibilità dei crediti era uno strumento che funzionava avevano ragione è uno strumento che ha dimostrato di funzionare ma all'indomani delle elezioni regionali con una tempistica degna del più disgustoso cinismo avete fermato tutto e avete tradito anche in questo caso i vostri elettori esattamente come l'avete traditi sul taglio delle accise sulla pacchia finita per l'Europa sulla abolizione dell'immigrazione sugli scostamenti di bilancio di Salvini da 50 miliardi sulla crescita economica e così via avete raccontato una quantità impressionante di menzogne e noi Presidente voteremo no a questa fiducia ma voteremo anche contro tutti i provvedimenti di questo governo che hanno il solo effetto di deprimere la nostra economia e scardinare misure in grado di generare crescita economica e sociale del Paese voi dicevate di essere pronti però avete dimostrato di essere pronti a tutto e a tutto il peggio possibile pur di vivacchiare prendendo in giro gli italiani grazie Presidente grazie 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 a tutti grazie a tutti